La città di Eboli accoglie la nuova sede di sviluppo e territorio. Si arricchisce con un nuovo club, il movimento fondato dal consigliere regionale Alfonso Longobardi, in un territorio ricco di storia e tradizioni. Illustrato alla presenza dei simpatizzanti locali e del sindaco Massimo Cariello e dell'assessore Angela Lamonica, il percorso che ha portato alla nascita del club di Eboli. Ascoltiamo Alfonso Longobardi. Io devo ringraziare gli amici di Eboli, Raffaella Bonora Iannece, Lamam, persone straordinarie, persone che hanno creduto in questo progetto, un progetto civico. Non hanno persone che vogliono certamente fare del bene per la propria comunità e con sviluppo e territorio, al di là dei partiti, soltanto con la voglia di realizzare, con la politica del fare, realizzare un nuovo modo di fare politica. Noi siamo qui, io devo ringraziare loro perché hanno dato la disponibilità per poter aprire questo fantastico club al centro di Eboli e da stasera siamo presenti anche nel Salernitano. Quindi grandissima gioia. Sbarca anche sul Salernitano la politica del fare, lo facciamo con umiltà, da lavoratori in ambito politico lo faremo quotidianamente. L'apertura di un club è fondamentale perché significa essere presenti sul territorio, accogliere le istanze dei tanti cittadini e poter essere un punto di riferimento per centinaia, migliaia di cittadini salernitani. Quindi noi siamo qui, allarghiamo le spalle, un lavoro aggiuntivo, ma ci prepariamo veramente ad essere al servizio dei cittadini di Eboli e di tutte le città limitrofe e del cuore di Salerno. Quindi avanti tutta così, al fianco della futura coordinatrice di sviluppo e territorio. Oggi è un grande momento perché andiamo al di là dei confini della cosiddetta circoscrizione elettorale, annulliamo queste parole che non le comprendiamo mai, ma siamo al servizio di tutto il territorio campano senza fare alcuna distinzione tra le cinque province. Quindi pari dignità per tutti i cittadini, per tutti i 6 milioni di cittadini campani. Avanti tutta. Sul territorio arriva un modo nuovo poi di fare politica. Conosciamo l'Onorevole da tanto tempo, a noi è piaciuto il suo modo di parlare, di scendere fra le persone e di portare la politica a livello proprio delle persone, di parlare, di essere tra la gente. Quindi questo è qualcosa che ci è piaciuto sempre tanto. Quindi inauguriamo questo club, sperando sempre avanti tutta e ad mai ora. Un punto di riferimento del territorio, di un consigliere regionale che pur non essendo di questo territorio ritiene che questo sia un territorio interessato alle proprie attività politiche, per noi crede che sia un valore aggiunto. Credo che questo rappresente comunque un'occasione anche di confronto sulle problematiche che riguardano la comunità ebolitana e avere il suo supporto in Regione Campania, dove devo dire attualmente la Regione Campania ci sta dando un enorme contributo su tante iniziative e tanti progetti da parte del governatore De Lugo e credo che rappresenta un ulteriore valore aggiunto.